Intanto c'è un approccio paradigmatico completamente diverso rispetto a quello della destra. La destra rispetto ai problemi di vulnerabilità sociale ed economica risponde dicendo alle persone e alle famiglie ognuno fa per sé e quindi non offrendo risposte adeguate con l'affermazione dei diritti di cittadinanza e tra l'altro rimuovendo le cause come recita molto bene l'articolo 3 della nostra Costituzione. Noi proviamo invece a dare dignità a queste persone che si trovano in questa condizione offrendo sicuramente un importo di risorse immediate ma contemporaneamente prendendo a carico le persone con un approccio multidisciplinare e incanalandoli verso una prospettiva anche di inclusione sociale e lavorativa. Sì ma la destra diciamo prima durante la campagna elettorale ha detto che avrebbe tolto una serie di balzelli e avrebbe affrontato le problematiche diciamo delle persone in fragilità, dei disoccupati, del salario minimo eccetera invece la destra da questo punto di vista ha allevato il reddito di cittadinanza addirittura non affrontando più il problema della povertà cioè la destra lo affronta dal punto di vista dello stato di famiglia cioè non affronta lo strumento del riconoscimento della povertà in base ad una condizione di effettivo bisogno ma lo lega allo stato di famiglia cioè se uno è povero ed ha nello stato di famiglia un sessantenne, un disabile o un minore allora gli viene riconosciuto uno strumento diciamo di riconoscimento reddituale se invece non ha questa fattispecie o questa condizione viene annullata come se la povertà venisse cancellata noi non possiamo accettare questa concezione quindi per quanto ci riguarda questa proposta mira a colmare questo voto, a dare dignità tra l'altro moltissime regioni a partire dalla Puglia ma anche altre regioni hanno già questa misura le risorse in Calabria ci sono, noi abbiamo indicato un sussidio di 500 euro al mese con il carattere appunto di universalità individuando delle risorse apposite che sono la garanzia occupabilità lavori lavori dei lavoratori che in Italia ha 4 miliardi di euro e in Calabria c'è una dotazione di quasi 80 milioni di euro i fondi comunitari 2021-2027 l'inclusione sociale che ha una dotazione diciamo di 158 milioni di euro quindi anche la proposta è suffragata da questi canali, da questi strumenti che posseggono diciamo delle risorse molto cospicue e quindi si apre adesso un dibattito e vedremo la volontà perché qua adesso è solo una questione di volontà politica non di disponibilità di risorse